Tutti quanti in coda da aspettare, facevo un caldo unicidiale e la spia della riserva cominciava a lampeggiare Mi facevo il segno della croce, ho pregato sottovoce, ho intravisto una cancuna e lì dentro c'eri tu Anche così puoi andare in G? Fifi? Ma io ti anticipavo, lo stavo per dire io Signore mio Allora, siamo pronti? Io voglio Prova tecniche! Sa, ah, ah, sa, prova, prova, prova Ok, perfetto, allora qui funziona Basta, basta Diciamo che se no pensano che siamo registrati No, assolutamente Guarda, guarda Vorrei un urlo di Marco Lolli a questo punto Urlo! Marco Lolli, signori Brinno e il Gallagher, degli Oasis Stavamo a questo punto E' quello che ti ha fatto Allora, il nuovo gruppo Noi Gallagher e poi Ciccio Babos Lui è il Ciccio 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 se interrogarli tutti Dice, 42 persone Ci colleghiamo adesso con la scuola Sentiamo se c'è il professore in classe Ah, sta facendo la pedra Stava facendo, sì Ecco Mi sa che è un po' lunghina Direi di... Tu sei sempre mia Anche quando vado via Tu sei l'unica donna per me Aspetta! Tre 2, 1, via! Sappiate che, qui lo dico e qui lo nego, vogliamo commentare, è una cosa seria, l'ISIS, sapete l'ISIS, i terroristi islamici, hanno minacciato Roma. Il resto invaderemo Roma. Invaderemo Roma, ma secondo me non gliela faranno, non gliela faranno perché rimarranno imbottigliati nel trattore. A boccea, a boccea. Si scherza! Si tu sei, tu sei l'unica donna per me. La classe dove sono i 42, sta facendo ancora l'appello. Niente, non c'è niente da fare. Si tu sei, tu sei, tu sei. Troppo, bella. E questo, quanto è lui, è una minchiata alla figlia. Se finisce avete rotto il cazzo, io ti giuro, in orra sono uno. Ora ti fate rosa anche da pulire. Buon mio signor. Zappolare! Meno male, alla zeta finalmente. Zolea! Zumbo! Sempre il retardo arrivi, Zumbo! Ah, l'ultimo! Eccetto! Allora, appuntamento a domani con Fulguramma. Non mancate, ciao! Tu sei, tu sei, tu sei. Mandato la piazza a Soscia. Radio 1! No! Al prossimo episodio